non incontrò mai. Il 19 novembre muore il grande compositore Franz Schubert. Aveva solo 31 anni, muore di febbre tifoidea. Però pur avendo un'età così giovane, aveva composto tantissime opere. Soprattutto sono famosi i suoi leader. Il leader è una canzone tedesca tipica della tradizione, fatta di voce e pianoforte. Lui è considerato, Schubert, l'inventore del lead romantico. Tra le sue innumerevoli opere voglio ricordarne due. Una è la famosa Sinfonia Incompiuta, perché è fatta soltanto di due movimenti, dove c'è un grandissimo senso di malinconia e un fortissimo lirismo. L'altra cosa che voglio ricordare di Schubert è la sua famosa Ave Maria, che viene spesso cantata nei matrimoni. In realtà la chiesa dà indicazione di non utilizzare questa composizione e permette al massimo che venga cantata alla fine della celebrazione. Il motivo è molto semplice che, pur usando, nel caso che si canti in chiesa, il testo dell'Ave Maria in latino, il testo originale usato da Schubert era ispirato alla Signora del Lago, Ellen, tratta da un poema di Walter Scott. Grazie a tutti.